Buonasera e benvenuti al Tg. Si è tenuta presso la Casa delle Rimembranze di Pisino la seduta costitutiva dell'Assemblea della Regione Istriana per il mandato 2021-25. Più dettagli nel servizio che segue. La nuova Presidente dell'Assemblea, eletta all'unanimità, è Sandra Ciacic-Cuchar, che ha ringraziato i presenti per la fiducia e l'appoggio ricevuti, affermando che questo la vincola e la motiva a un lavoro comune per il bene di tutti i cittadini dell'Istria nel periodo a venire. Dalle file della maggioranza parlamentare è stata eletta all'unanimità Tamara Brusic, appartenente alla Comunità Nazionale Italiana. Il Presidente della Regione Istriana, Boris Miletic, ha fatto gli auguri ai nuovi consiglieri per questa nuova convocazione dell'Assemblea. I cittadini della Regione Istriana hanno dato la fiducia a me come Presidente e a voi come rappresentanti di questo organo amministrativo. Spetta a noi giustificare la loro fiducia. Mi aspetto da tutti noi di concentrare la nostra attenzione sui progetti e le politiche che contribuiscono allo sviluppo dell'Istria. Io come Presidente sarò aperto al massimo alla collaborazione perché sono convinto che l'unione e la sinergia sono i presupposti del progresso. Il dibattito nell'organo rappresentativo della Regione Istriana a volte sarà pesante, ma spero che sarà innanzitutto aperto, costruttivo e civilizzato. Finora l'Istria è stata sempre sinonimo di civiltà, tolleranza e dialogo e spero che ciascun consigliere contribuirà a fare in modo che questo atteggiamento continui anche in futuro, ha dichiarato il Presidente Miletic. Miletic ha parlato dei progetti per i prossimi quattro anni e ha sottolineato di voler occuparsi delle politiche e dei programmi che mirano a uno sviluppo ulteriore uniforme, come pure al progresso della Regione. Ha parlato in particolare degli investimenti nella completa digitalizzazione dei servizi pubblici, la promozione dell'economia creativa, il collegamento del traffico, la crescita economica e la continuazione degli aiuti agli imprenditori istriani, specialmente a quelli colpiti dalla pandemia. Si continua, dice Miletic, anche con i progetti nel campo della sanità e dell'assistenza sociale, come quello concernente la conclusione dei lavori di costruzione e attrezzatura dell'ospedale generale di Pola, la costruzione delle case per anziani a Delbona e Pisino, l'ampliamento di quella di Pinguente e l'inizio dei lavori di ampliamento della casa per anziani Alfredo Stiglic a Pola. I giovani e l'istruzione continueranno ad essere in cima alla lista delle priorità della Regione, sia che si tratti di investimenti nell'infrastruttura dell'istruzione, sia dell'introduzione delle lezioni monoturno, del rafforzamento dell'Università Istriana di Scienze Applicate o l'istituzione del Fondo per l'assegnazione di borse di studio agli alunni e studenti talentuosi. Infine c'è la realizzazione di progetti nel campo della cultura, come il rinnovo del castello a Pola, il rafforzamento della produzione culturale e del progetto dello studio della storia e della cultura del territorio, ha dichiarato Miletic, affermando che l'accento sarà posto sulle soluzioni innovative e sostenibili, il rafforzamento della struttura del traffico e i progetti di efficacia energetica e tutela ambientale. Questi sono solo alcuni dei progetti che innalzeranno il tenore di vita in Istria, ma ce ne saranno ancora parecchie, ha detto Miletic, sperando nel supporto di tutti i consiglieri per poter realizzare tutti i progetti e per rafforzare i valori e l'identità istriana, ha concluso il Presidente. La proposta della minoranza parlamentare di eleggere quale secondo Vicepresidente Daniel Feric non è stata accolta perché 17 membri dell'Assemblea hanno votato per Feric, mentre 22 erano astenuti. L'elezione in questione si svolgerà alla prossima seduta dell'Assemblea. Ormai non ci sono più dubbi. Al turismo nostrano servirà un po' più tempo del previsto per tornare ai vecchi fasti. Ciò nonostante c'è molto ottimismo nel settore privato. Una nostra tappa nel citanovese ci ha fatto toccare con mano la situazione. Dopo il 20 giugno, le porte del solstizio d'estate e di quella che conosciamo come la giornata più lunga dell'anno, gli ospiti in regione erano circa 100.000, un po' pochi a dire il vero. Nelle altre parti della Croazia gli operatori turistici non potevano certo gioire, Dalmazia compresa, dato che il grosso del turismo nazionale era situato nell'Alto Adriatico. Una nostra tappa non lontano da Cittanova ci ha fatto toccare con mano la situazione, come ad esempio presso il centro acquatico Istralandia, dove a dire il vero si dicono soddisfatti. I risultati sono quelli delle aspettative ed è stato bello vedere durante l'orario d'apertura frotte di vacanzieri intenti a godersi i contenuti del parco, molti dei quali erano turisti nazionali. Questo che è il secondo parco acquatico per Valencia in Europa, nonché il quinto al mondo, ha aperto i bantetti puntualmente alle 10 del mattino. Il 2020 era specifico, lo sappiamo tutti per via del Covid, però speriamo e siamo sicuri che questa stagione 2021 sarà molto molto ma molto più prosperosa del 2020. Speriamo il 70%, questa è una nostra idea della nostra previsione di quest'anno. Siamo ormai a fine giugno, come funzionano le cose? Siamo aperti appena da 7 giorni, diciamo che per adesso siamo su 40% se compariamo col 2019. Non lontano, nella bella città nuova, l'atmosfera durante il solstizio d'estate era un po' addormentata. Le strade non erano per niente affollate, mentre gli alberghi privati erano meno pieni del previsto, ciò nonostante le riservazioni non mancano. Diciamo che, come nel resto della regione, l'estate, anche se non in fatto di temperature, sul fronte del tornaconto per la locale economia tarda un pochino. Siamo ancora lontani dall'anno rivelazione, quello che doveva essere il 2021. Naturalmente i vaccini fanno la loro bella parte, ma c'è da dire un'amara cosa. La gente purtroppo ha ancora paura di viaggiare, almeno così sembra. No, nessuna rivelazione, è un anno strano. La gente è ancora sempre a paura, non sono sicura dove andare. Questi che vengono, almeno qui da noi, sono quelli che vengono sempre. Sanno dove vanno, cosa incontrano, che gente c'è. Allora questi vengono. E si vede che hanno voglia, un po' guardano da parte, ma dopo quando vedono noi che siamo molto rilassati, siamo vaccinati, io dico che tutto il personale è vaccinato, allora vedo che si rilassano e stanno bene. Stanno pochi giorni, due, tre, e poi tornano a casa. La nostra intervistata ha anche steso un velo positivo sulla stagione 2020, dicendo che non è stato un anno malvagio. C'è da dire anche che l'occupazione è rimasta stabile, il che di questi tempi vuole indubbiamente dire molto. Dobbiamo essere sinceri che non era facile, non era facile per neanche una ditta. Però il vero è che non abbiamo licenziato neanche un dipendente. Tutte le paghe sono rimaste uguali, uguali al 2019, durante tutto il 2020. E anche in quest'anno tutti i dipendenti sempre uguali, sempre stessi, con stesse paghe. Andiamo avanti così, speriamo il meglio, no? Notizie Flash I bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari di Parenzo hanno recentemente ricevuto la seconda parte del libro illustrato Fani e Flechiza. Il libro ha uno scopo educativo e grazie ad esso i bambini imparano ad acquisire sane abitudini e come tutelare l'ambiente. Il libro è stampato in croato e italiano. Sul tetto del Palazzetto dello Sport di Cittanova si è svolto il campionato di salto sul piccolo trampolino. La competizione è stata organizzata dal club di ginastica di Cittanova. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un diploma, mentre i tre primi classificati hanno ricevuto anche le medaglie. La sesta edizione del torneo Bambino Cup 2021 per giovani calciatori in tre categorie di età si è svolta lo scorso fine settimana a Dignano. Al torneo hanno partecipato 14 squadre e sono state giocate più di 30 partite. Il torneo si è svolto in un clima sportivo molto positivo all'insegna della socializzazione tra i giovani. Gli alunni della Scuola Media Superiore Italiana insieme alla professoressa di informatica Ivana Maric hanno visitato la nostra emittente. Un'introduzione a come vengono preparate e prodotte le trasmissioni in lingua italiana di TV Nuova ha offerto agli alunni la nostra Isabel. Oltre alla teoria, le aspiranti giornaliste hanno avuto l'opportunità di mettersi nei panni delle conduttrici leggendo gli annunci e le notizie del telegiornale. Dopo aver visto come ci si comporta nello studio, cosa succede in regia e nella redazione, le alunne hanno presentato a noi e ai nostri telespettatori il loro lavoro. Noi abbiamo scelto il tema del Covid-19 e anche in particolare come è stato influito di noi e anche la scuola perché abbiamo voluto commemorare tutto quello che è successo perché questi ultimi due anni sono stati molto particolari tra lockdown, misure epidemiologiche e altre cose e quindi abbiamo pensato che sarebbe stato molto interessante creare un video che ci aiuti a ricordare anche a distanza di anni quello che è successo e comunque in questi ultimi anni ci sono stati particolarmente aspetti negativi quindi le gite che non abbiamo potuto fare quindi non potevamo muoverci liberamente per la scuola e poi anche non potevamo avere un contatto diretto sia con i nostri compagni ma anche con i professori e questo ci è mancato molto anche se comunque all'inizio pensavamo che non sarebbe stato così però poi ci siamo resi conto grazie a tutto quello che è successo quanto sono importanti queste piccole cose che prima anche dovevamo per scontate e quindi questa sarebbe la cosa che forse è l'aspetto più positivo di tutto quello che è successo e quindi il nostro obiettivo principale quando creavamo questo video era di aiutarci a ricordare quello che abbiamo imparato e quindi abbiamo così strutturato il nostro video quindi un bambino nel futuro che guarda il video per accentuare che anche a distanza di anni quando tutto questo sarà passato non dovremo dimenticare gli insegnamenti che ci ha dato tutto questo e anche potremo tramandare quello che abbiamo imparato alle generazioni successive Il processo era molto divertente, interessante però era anche molto impegnativo ci è servito un totale di tre settimane per completare il nostro progetto è cominciato tutto con uno schema generale degli argomenti che volevamo trattare così ci è venuta anche l'idea di fare le interviste ai professori, anche agli allunni e anche a certi nostri parenti poi ci siamo trovate più volte per scrivere un copione che poi ci è venuto a otto pagine di testo dove parlavamo della nostra esperienza con il coronavirus e dell'impatto sulla scuola abbiamo scritto le domande per le interviste poi le abbiamo anche registrate era molto semplice registrarle perché tutti i partecipanti erano molto collaborativi la registrazione delle nostre parti era più complicata perché ci dovevamo svegliare spesso a buon'ora arrivare a scuola quando non c'era nessuno per firmare alla fine delle due settimane il video era pronto per il montaggio ho montato il video con un programma chiamato Da Vinci Resolve era un programma complicato che però con l'aiuto della professoressa e con vari tutorial su YouTube ho imparato ad usare ho tagliato i video, ho trovato il posto dove dovevamo mettere le interviste Quanto è importante l'informatica per gli alunni ci spiega Denise La scuola a noi ci permette di utilizzare nuovi dispositivi per lavorare durante le ore di informatica che sono molto ben organizzate studiamo dei nuovi media, utilizziamo software nuovi e moderni del ventunesimo secolo come ad esempio Canva e Presi, anzi ultimamente abbiamo creato tantissimi lavori utilizzando questi software, giornalini, volantini di vario genere abbiamo imparato anche a creare da soli pagine web abbiamo creato pagine web online utilizzando Wordpress, Wix inoltre per quanto riguarda il capitolo della multimedia qui con l'aiuto della nostra professoressa abbiamo creato tantissimi video e abbiamo imparato anche tantissime cose a riguardo come creare video, come aggiungere l'audio tagliare, montare vari video ecco, devo dire che quest'anno scolastico è stato per tutti noi abbastanza difficile però con tanto impegno e serietà verso il lavoro abbiamo ottenuto ottimi risultati non voglio dire che tutto andrà bene perché mi dà in nervi questa frase studia e con questo siamo arrivati alla fine del TG grazie per averci seguito buon fine settimana grazie per averci seguito